Torna anche quest'anno l'evento che dal 2014 il Fondo Ambiente Italiano dedica i panorami italiani alla promozione della loro conoscenza. Domenica 12 settembre, in occasione dell'ottava edizione della Giornata del Panorama, il FAI inviterà il pubblico a guardarsi intorno con attenzione, a far spaziare lo sguardo e ad apprezzare con maggiore consapevolezza la bellezza dei paesaggi che si possono ammirare da 13 suoi beni in 10 diverse regioni. Durante la giornata sono in programma attività recreative di piacevole svago, ma anche attività culturali con passeggiate e visite guidate che avranno come protagonista indiscusso il patrimonio di ambiente e paesaggio dentro e fuori questi siti, fatto di mare, monti, borghi, campi coltivati, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e di fauna. Nelle Marche sarà possibile partecipare a speciali visite all'Orto sul Colle dell'Infinito a Recanati, oltre il muro dell'antico convento di Santo Stefano si manifesta lo splendido paesaggio dei Monti, teatro delle leggende della mitica Sibilla e lo sguardo riesce ad apprezzare dalla Maiella al Gran Sasso fino ai Monti della Laga. Ci si potrà inoltre concedere di passeggiare nel giardino restaurato dal FAI, godendo della quiete e senza tempo dell'orto. Oltre alle visite guidate saranno organizzati workshop fotografici con i soci delle Fotocine Club di Recanati. Per partecipare all'evento è obbligatoria la prenotazione da effettuare al sito giornatadelpanorama.it dove sarà possibile consultare anche il programma completo con orari e costi delle attività. In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.